Settimana dell'autismo, un impegno condiviso, questa sera l'evento si tiene al Teatro Arbostella. Buonasera, io sono Anna Rita Ruggero, mamma di Nicolò, dell'Associazione di Amici di Io Sono Nicolò. Siamo onorati e felicissimi di aver potuto dare gocce di consapevolezza alla settimana dell'autismo, indetta dall'Ambito S5 e dall'ASL Salerno. Stasera al Teatro Arbostella presenteremo un format innovativo, Anime Blu in Movimento, perché i nostri ragazzi, oltre a qualcuno essere sulla carrozzella, corre e scappa e quindi ci siamo inventati, grazie al disegno di Nicolò che ha fatto, questa bellissima farfalla, che siamo ali della stessa farfalla, dammi la mano e volevremo lontano, oltre i limiti, le barriere delle disabilità e dell'autismo. È diventato un logo, un'icona, che noi poi andremo a sensibilizzare commercianti, aziende, scuole, proprio per distinguere la disabilità fisica da quella neurologica, psichica e sensoriale, oltre ai tanti laboratori di apprendimento per scoperta che facciamo con i nostri ragazzi, che creano dei portachiavi bellissimi, annodano, infilano, confezionano e quindi si sentono veramente realizzati e possono vivere piccoli piaceri della vita.